Onorevole Di Muro, per la zona franca di Ventimiglia è uscito un bando, però non c'è tempo da perdere, bisogna fare presto, è così? Sì, è così, i tempi sono stretti perché entro maggio bisogna presentare le domande al Ministero dello Sviluppo Economico per gli sgravi fiscali, come sapete la zona franca agisce principalmente sugli sgravi, c'è poco tempo perché a maggio bisogna fare le domande per star nello scalone fiscale di giugno. Quello che mi dispiace, scriverò a breve una lettera sia al Ministero dell'Interno sia alla Regione Liguria, che peraltro ho seguito personalmente questa partita nel lavoro passato, bisognava forse sedersi un po' di più al tavolo e mettere insieme quelle misure di carattere nazionale in termini di sgravi e i 5 milioni che sono tantissimi rispetto anche alla contropartita nazionale che ha messo in campo pochi mesi fa la Regione, che sono finanziamenti per le imprese esistenti in materia di incentivi, quindi non su acquisto di macchinari, di brevetti, di personali, e un milione di euro di questi 5 per le nuove imprese. Quindi mentre la zona franca, diciamo con gli sgravi del Mise, ha a che fare, è molto importante dal punto di vista delle medie imprese, se vogliamo, comunque per chi ha dei lavoratori dipendenti, io credo che invece la parte regionale aiuti molto di più chi vuole aprire una nuova attività o le micro e piccolissime imprese. Ecco, magari, visto che abbiamo aspettato tanto la zona franca, si poteva mettere insieme Regione e Stato e far partire queste misure insieme in modo tale da dare la necessaria comunicazione e una panoramica di scelte, un'opportunità più vasta per chi decidesse di insediarsi a 20 miglia. Detto questo, è un'occasione importantissima, siamo a un passo da sbloccare tutte le misure, devo dire che secondo me la zona franca, se funzionerà bene, non sarà un volano per solo 20 miglia, che peraltro ne ha tanto bisogno, ma per l'economia di tutta la provincia di Imperia, perché significa anche, grazie a nuovi insediamenti, dare tanti posti di lavoro. Quindi scriverò a breve una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico e al Presidente della Regione Liguria per istituire un tavolo di confronto, armonizzare queste misure in modo tale che i giovani che vogliono aprire un'attività, le imprese esistenti o chi volesse aprire comunque una nuova impresa, sappia bene le cose e abbia un percorso più ben definito.